In questi ultimi giorni si è parlato molto di Amici 23 e non solo per la vittoria di Sara Toscano, ma anche per via di diverse indiscrezioni riguardanti una delle molte coppie che sono nate nel corso della edizione Trattasi di Lucia Ferrari e da Il che improvvisamente sembravano lontani Che sia già ritorno di fiamma. Il discusso cantante, sin da subito ribelle nel suo prezioso percorso nella scuola di Maria De Filippi e con la sua maestra Anna Pettinelli, aveva improvvisamente smesso di seguire Lucia Ferrari Lasciando subito intendere ai fan che tra loro fosse già finita dopo Amici 23 Adesso nuovi segnali e positivi. Che succede? Amici 23, i due allievi di nuovo insieme La platea su social si era appigliata solo ad una piccola percezione di speranza dovuta al fatto che Lucia Ferrari, al contrario del Livornese, aveva mantenuto il follow su Instagram L'altro, invece, aveva pure fatto pulizia delle foto con la giovane I diretti interessati sono rimasti poi nel silenzio fino ad oggi, lasciandosi parlasse di loro e che forse sia stato proprio questo lo scopo? I più maliziosi sicuramente lo penseranno Sì perché adesso la coppia legata ad Amici 23 è tornata sul web e più unita che mai, senza tra l'altro fare menzione dell'accaduto Ieri Lucia ha festeggiato il suo compleanno e per l'occasione ha pubblicato due foto assieme con tanto di cuori Che sia stato solo un modo di attirare l'attenzione o magari avevano litigato come normal che accada Nessuna spiegazione ma secondo i fan, anche se la presunta rottura ci fosse stata, questo sarebbe il segno che tutto sarebbe tornato alla normalità Chissà, vi prego, io non ci sto capendo niente, quindi hanno fatto pace, magari sono rimasti amici, scrivono diversi fan su X